Eccoci al consueto appuntamento con le anticipazioni del telegiornale di oggi, tra poco sul canale 85 di Tris. Disegno di legge e di riforma della regione siciliana si va verso la ricostituzione delle province. La cronaca di un altro femminicidio in Sicilia, un omicidio a Giarratana, in provincia di Ragusa, uccide la cognata a Coltellare. La banda delle bombe carta di Siracusa si costituisce il quarto componente, si trovava a Malta. Il settantesimo anniversario della lacrimazione della Madonnina di Siracusa è fitto il calendario degli eventi. Calcio è il campionato di eccellenza, la ventiquattresima giornata inizia il duello sportivo tra Siracusa e Nova Egea Virtus. Questo ed altro a Tris regionale tra poco, intanto linea alla regia per i consigli. Unidei Expo Food & Beverage ritorna con la seconda edizione. Dal 12 al 15 marzo la più grande rassegna a Siracusa dedicata ai professionisti del settore Oreca e organizzata da Unigroup S.p.a. Formazione e approfondimento su prodotti e servizi per ristorazione, pizzeria, pasticceria, alberghi e bar. L'ingresso è gratuito ed è riservato a operatori del settore con partita IVA. Registrati sul sito unigroupspa.com No bambini, non si può avere tutto dalla vita, se no mica stavo con mamma. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0, full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Nova Auto, concessionaria Evo e DR. Via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovia a Siracusa. Rieccoci studio per iniziare questa edizione del Lette regionale. Come avete sentito dalle anticipazioni parliamo in apertura delle province regionali. Sul disegno di legge di riforma il governatore dell'isola Schifani sostiene che venga colmato un vuoto che ha generato finora soltanto disservizi. Il governo regionale ha avviato il percorso per la reintroduzione delle province in Sicilia con l'elezione diretta di presidenti e consigli. L'abolizione degli enti intermedi nove anni fa con l'istituzione delle città metropolitane e dei liberi consorsi di fatto non ha funzionato. Il disegno di legge adottato dal governo è stato illustrato al governatore Schifani e prevede la riorganizzazione delle province e delle città metropolitane. Le province saranno sei, più le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il progetto di riforma individua gli organi di governo e la loro composizione introducendo la figura del consigliere supplente. Stabilisce le quote rosa nelle liste con almeno un quarto delle candidature riservate a donne. Prevede la doppia preferenza di genere, come nei comuni. Introduce il collegio unico per l'elezione del presidente delle città metropolitane della provincia, la divisione della circoscrizione elettorale nei collegi per l'elezione dei consiglieri provinciali in modo da dare adeguata rappresentanza a tutti i territori. Per le province con popolazione superiore al milione di abitanti sono previsti 36 consiglieri e massimo 9 assessori. Per quelle tra i 150.000 e un milione di abitanti, 30 consiglieri e fino a 7 assessori, mentre quelle con meno di 500.000 abitanti potranno eleggere 24 consiglieri e le aggiunte avranno un massimo di 6 assessori. Sappiamo bene purtroppo della disorganizzazione dei servizi e delle manutenzioni delle strade perché non c'era un interlocutore. Abbiamo assistito a decenni di commestariamenti delle nostre province e adesso così in attemperanza anche al nostro programma di governo abbiamo ritenuto opportuno e l'abbiamo fatto in tempo record, come vedete, di ridare di nuovo vita alle province con il voto a soffraggio universale. Il sistema elettorale adottato sarà il proporzionale con metodo ONT per l'assegnazione dei seggi a liste. L'entrata in vigore della legge dopo l'approvazione in assemblea regionale è condizionata all'obbrogazione della legge del Riu da parte del Parlamento nazionale. Le province abolite sono state rimpiante da tutti gli italiani, non vedo grandi resistenze sulla reintroduzione perché i cittadini hanno capito come la riforma del Riu sia stata un grande fallimento legislativo. Si troverà naturalmente un'intesa sia con Lanci che con Lupi, ci saranno delle concertazioni, le audizioni sicuramente in commissione, però il dato è tratto, voglio dire, partiamo già da uno schema storicamente condiviso che aveva funzionato. Cambiamo subito argomento, la cronaca, la cronaca purtroppo di un altro femminicidio, un altro caso in Sicilia. Un uomo ha ucciso la cognata, una donna di 52 anni, è stata uccisa a coltellate dal cognato che di anni ne ha 66. Il delitto è avvenuto a Giarratana, in provincia di Ragusa. Un altro femminicidio in Sicilia, una donna di 52 anni, Costantina dell'Albani, è stata uccisa a coltellate dal cognato Mariano Barresi, di 66 anni. L'uomo è stato posto in stato di fermo da parte dei carabinieri che sono intervenuti subito dopo il fatto nell'abitazione della madre della vittima in cui la donna si trovava per accudirla durante la notte. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente dell'omicidio anche se gli investigatori parlano di raptus. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ragusa che non escludono al momento alcuna pista per dare una spiegazione rispetto all'insano gesto compiuto dall'uomo che si sarebbe chiuso nel silenzio. La donna, moglie di un carabiniere in servizio a Ragusa, sarebbe stata uccisa intorno alle 4 del mattino con un coltello. L'indagato abita al piano superiore della casa in cui si è verificato il femminicidio. Ancora cronaca, avrebbe minacciato l'ex convivente a più riprese persino di non presentarsi in tribunale per sostenere la denuncia che le aveva sporto. Un 38enne catenese finisce così agli arresti domiciliari. La procura distrettuale di Catania ha ottenuto nei confronti di un 38enne catenese la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati surreati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte abituali dell'uomo ai danni dell'ex convivente dal marzo 2020 al novembre 2022. Il rapporto di convivenza tra i due, dal quale erano nate due figlie, sarebbe stato caratterizzato da manifestazioni ossessive di morbosa gelosia da parte del 38enne con continua accusa di tradimento e di controllo dell'uscita della donna. La decisione della vittima nel marzo 2020 di interrompere la relazione sentimentale avrebbe scatenato un'euro e propria caccia da parte del 38enne nei suoi confronti a partire dalle numerose incursioni sotto casa della madre e per tentare di riallacciare il rapporto sentimentale e la ferma intimazione a non frequentare altri uomini. Esasperata da tali condotte, la donna alla fine del mese di marzo 2020 ha denunciato il 38enne, il quale avrebbe manifestato qualche cambiamento nell'atteggiamento nei confronti della donna. Dopo la denuncia, i due avrebbero nuovamente convissuto, seppur per brevi periodi, con momenti di tranquillità alternati a periodi in cui la donna sarebbe stata destinataria di moleste reiterate. Tuttavia, puntualmente, sarebbe riemersa l'indole ossessiva delle 38enne, il quale avrebbe continuato da posta a fare la donna con parole offensivo del tipo zingara morta di fame e a minacciarla di morte. La convocazione della donna, fissata per il mese di febbraio per arrendere testimonianza in tribunale nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito appunto della denuncia presentata, avrebbe spinto l'uomo a rivolgerle minacce di morte qualora avesse deciso di presentarsi in tribunale. Turbata da tali minacce, la donna ha deciso di non presentarsi all'udienza comunicando le sue intenzioni al 38enne, che di contro l'avebbe anche incoraggiata a presentarsi tranquillamente, ma con la minaccia velata e la sfida a farlo, prospettando gravi ritorsioni. Gli attentati dinamitardi a Siracusa, è stato preso dai carabinieri il quarto componente della banda delle bombe carta, si trovava a Malta, è stato catturato proprio al suo rientro da Malta dove si trovava al momento del blitz. Si è costituito il quarto componente della banda che tra settembre 2021 e marzo dello scorso anno ha messo a segno tre attentati dinamitardi utilizzando bombe carta e terrorizzando le attività commerciali del capoluogo Aretuseo. La misura cautelare è rivolta al 28enne Siracusano che è tornato in città costituendosi alla caserma dei carabinieri al momento dell'arresto e si trovava a Malta. Adesso sarà collocato agli arresti domiciliari come altre due delle persone coinvolte nell'inchiesta della procura di Siracusa e portata a termine dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Intanto proseguono gli scontri positivi all'operazione antiattentati, la recente operazione dei carabinieri di Siracusa con il coordinamento della procura del capoluogo che ha sgominato la banda e le cosiddette bombe carta. È un segnale forte da parte dello Stato, un messaggio chiaro rivolto a chi crede di poter delinquere impunemente nella nostra città. Lo dichiara Santilo Tauro, presidente comunale di CNA Siracusa, il quale prosegue l'idea del possesso di un territorio e della possibilità di lanciare messaggi inequivocabili di predominio sulle piazze di spaccio, rischiando la vita di persone innocenti con ordigni rudimentali e pericolosi piazzati in mezzo alla strada. È stata stroncata l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura e per questo a loro va il ringraziamento e il plauso, dice lo Tauro, da cittadini prima che da imprenditori. La vicenda dei consiglieri comunali di Portopalo di Capopassero, a distanza di poco più di un mese dal loro arresto, sono tornati in libertà i due ex consiglieri comunali coinvolti nell'inchiesta della procura per tentata concussione. Tornano in libertà i due consiglieri comunali di Portopalo coinvolti nell'inchiesta della procura su presunti episodi di tentata concussione. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa che ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Corrado Lentinello e Rachele Rocca. I due erano stati arrestati dai carabinieri il 2 febbraio e la settimana scorsa si sono dimessi dalla carica politica. Una condizione nuova che ha permesso al legale difensore e l'avvocato Giuseppe Gurrieri di presentare l'istanza di revoca della misura cautelare non sussistendo più il pericolo di inquinamento delle prove. In precedenza il Tribunale del Riesame aveva rigettato il ricorso del legale accogliendo invece quello del terzo indagato Antonino Rocca, ex consulente del sindaco di Portopalo. Per gli inquirenti i tre avrebbero fatto pressioni nei confronti di alcuni imprenditori le cui aziende avevano ottenuto dal comune di Portopalo dei lavori per ricevere dei favori, tra cui assunzioni di persone vicine agli indagati e soldi. E a supporto di questa ricostruzione gli inquirenti hanno in mano le dichiarazioni delle presunte vittime e le intercettazioni telefoniche. Lasciamo la cronaca, parliamo del settantesimo anniversario della lacrimazione, l'evento della lacrimazione della Madonnina delle Lacrime di Siracusa. Tante le iniziative in programma si comincia il 25 marzo con l'apertura delle celebrazioni dell'anno Mariano con il cardinale Matteo Zuppi. È ricco e articolato il programma per le celebrazioni del settantesimo anniversario della lacrimazione della Madonna di Siracusa. Il tema scelto per l'anno Mariano si rifà all'intervento di Papa Francesco relativo alle lacrime della Madonna. Il 23 aprile dello scorso anno disse le lacrime sono un segno della compassione di Dio. Entranno proprio nel dettaglio delle iniziative, quali sono quelle più rilevanti? La prima è lì con l'apertura dell'anno Mariano, con la presenza del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, perché non dimentichiamo che la lacrimazione è accaduta in Italia. La Madonna ha dato un segno chiaro della sua presenza e Papa Giovanni Paolo II ci ha detto che noi dobbiamo ricordare questo evento alla Chiesa e al mondo. E proprio questo il primo settembre del 2023 sarà il suo segretario particolare, il cardinale Stanislao, a celebrare il solenne bondificale con tutti i vescovi, gli arcivescovi della Sicilia. In quest'anno in modo particolare poi la riflessione spirituale sarà incentrata sugli atti del processo storico che fino ad oggi sono rimasti negli archivi del nostro santuario. Adesso saranno pubblicati e saranno portati alla conscienza di tutti. Quello che è accaduto in quei quattro giorni che ancora non tutti conosciamo ma che è bene conoscere perché la Madonna si è rivelata attraverso un umile quadro, in un'umile famiglia, in un'umile abitazione, attraverso dei fatti che hanno ancora tanto da dirci. Ma qual è il significato delle lacrime della Madonna di Siracusa? Oggi lo abbiamo chiesto all'arcivesco della città, Francesco Lomanto. In prima fila per la realizzazione di una serie di eventi per l'anno mariano è l'arcivesco di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, il quale spiega il significato attuale delle lacrime della Madonna di Siracusa. Le lacrime, oltre a ricordarci la compassione di Dio, ci ricordano l'impegno a cambiare, trasformare, rinnovare la nostra vita, anche a pregare perché le lacrime sono anche una preghiera. Quando una persona dinanzi a una difficoltà si ferma e piange significa che si affida a qualcuno. Le lacrime sono segno della compartecipazione della Madonna alle le sofferenze dei propri figli e dunque sono un invito a scuoterci, a cambiarci perché solo nel Signore possiamo avere la salvezza. Parliamo dei rifiuti adesso perché sono stati stanziati dalla regione siciliana 45 milioni di euro per i comuni che conferiscono all'estero. Uno stanziamento di 45 milioni di euro per sostenere i costi extra del conferimento dei rifiuti all'estero dei comuni del Catanese, del Messinese, del Ragusano e del Siracusano. Lo ha deliberato il governo regionale nella seduta di giunta che ha avuto anche l'ok sulla proposta dell'assessore regionale all'energia e dei servizi pubblica utilità Roberto Di Mauro. Si avvia un percorso funzionale, ha detto l'assessore, per sostenere quei comuni che conferiscono all'estero e devono adottare il piano esecutivo di gestione, il PEG, aderente ai reali costi del servizio. A causa dell'invio dei rifiuti in ambito extra regionale le spese per lo smaltimento sono aumentate del 250 a 400 euro a tonnellata. Con questa iniziativa condivisa dalle SRR e dei territori coinvolti daremo ai comuni un contributo che terrà conto dell'effettiva spesa sostenuta e della capacità di raccolto differenziata, sostiene Di Mauro. I criteri di ripartizione degli aiuti da erogare alle amministrazioni riguarderanno il calcolo dei costi sostenuti nel secondo semestre del 2022, la quantificazione della spesa ulteriore rispetto alle tariffe base, la percentuale dei rifiuti inviati all'estero e quella di raccolto differenziata. Le risorse provengono da una precedente riprogrammazione dei fondi POFESR, patto per la Sicilia, FSC e POC.